Sempre più forza e peso all'Ince, iniziativa centro-europea che si prefigge di consolidare il suo ruolo di attore regionale per l'integrazione continentale, contribuendo all'elaborazione di progetti comuni fra gli stati aderenti in vari campi. Ed in quest'ottica si inserisce la riunione ministeriale del 2011 in programma a Trieste sotto la presidenza serba e che vedrà la partecipazione di 12 ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Ince, 5 viceministri e un alto rappresentante, un importante vertice per il quale i coordinatori nazionali Ince hanno definito in una riunione il documento che verrà adottato. Il segretario generale dell'iniziativa centro-europea per Fanzelter ha ribadito la necessità di una risoluzione per il rafforzamento dell'Ince. In questo documento si conferma la roadmap che abbiamo deciso a Budva l'anno scorso sotto presidenza montenegrina di rinforzare l'azione dell'Ince su tanti livelli, specialmente una più stretta collaborazione con la Commissione europea e con le altre organizzazioni regionali.